Approvata l'unanimità in Consiglio regionale, la mozione è presentata dal consigliere del PDL Forza Italia-Napoli sulla riduzione delle liste di attesa per l'accesso ai servizi ambulatoriali delle ASL. La Giunta si è così impegnata finché la Direzione Generale delle Strutture Ospedaliere della Regione prolunghi l'orario degli ambulatori e delle altre strutture incaricate a derogare prestazioni sanitarie, fine settimana e festivi compresi, in attesa dell'approvazione del piano regionale che già include provvedimenti volte alla riduzione dei tempi delle liste di attesa e punta ad arginare il fenomeno dell'immigrazione sanitaria. Sempre all'unanimità l'Assemblea ha approvato una mozione d'iniziativa del consigliere Rosa in merito alla riattivazione dei servizi in favore dei cittadini privi della vista. Con questo documento la Giunta regionale si è impegnata a sua volta per adottare tutti i provvedimenti volte a riattivare i corsi di orientamento e mobilità precedentemente forniti dal Centro regionale di prevenzione in cecità e riabilitazione visiva.